Giovanni, con Forlì più che una serie è stata una vera e propria guerra, sono state tre partite, una più bella dell'altra, combattutissime e adesso siete in semifinale, playoff. Sì, innanzitutto da sottolineare un traguardo incredibile, c'è di una portata straordinaria per quelle che erano le premesse d'inizio stagione, quindi i complimenti vanno ai giocatori e soprattutto che hanno messo grande disponibilità dal primo giorno di Raduno ad adesso. Tre partite equilibratissime, sapevamo che Forlì, allenata benissimo da Giampaolo Di Lorenzo, ci avrebbe messo in difficoltà, avrebbe palesato quelli che sono i nostri limiti, probabilmente anche offensivi, però insomma alla fine siamo riusciti a portare a casa la serie aggrappandoci nei momenti cruciali delle partite alla nostra solidità difensiva, all'idea proprio del tenere uno contro uno, di non farsi battere come sfida personale, individuale di ogni singolo giocatore e sicuramente alle giocate di Simone che nei momenti decisivi non ci ha tradito. A livello psicologico quanta fiducia ulteriore può dare alla squadra aver vinto una serie del genere contro una squadra come Forlì? Lo diceva Piero, mi sembra un'intervista per i nostri giocatori, battere in una serie play-off giocatori come Rombaldoni, Carraretto, è un'iniezione di fiducia notevolissima perché possono testare e provare con mano il lavoro che stanno portando avanti dall'inizio dell'anno. Sicuramente adesso andiamo a giocare con Barcellona, una serie a cinque partite con una rotazione sicuramente più ampia della loro e la cosa che mi conforta è vedere tutti i nostri dieci giocatori coinvolti durante la settimana e anche durante la gara, quindi questo ci fa be' sperare. L'hai detto poco fa adesso, si va a Barcellona? Sì, una squadra che è arrivata seconda, ha fatto del fattore campo del suo palazzetto durante la stagione il fulcro della propria stagione, quindi sicuramente non è facile perché noi dobbiamo provare a ribaltare il fattore campo, abbiamo due possibilità subito domenica e martedì, siamo già al lavoro per preparare la partita, una squadra che si basa con rotazioni limitate ma ha due o tre giocatori di grandissimo talento, quindi penso che la partita e la serie sarà assolutamente lì.